Grazie a voi siete molto liberi anche di tempo, di modo di pensare. Come mai si è andata a fare, si è andata a pubblicare una parazione indietro di voi, per fortuna, di tutte le ragazze giovani e poi si è scappata a te e non ha rispondato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.